Il giustinio si contone il costo scosso della Vergine Maria Santo e puro e conservato Il Vangilio profumato di Maria 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 Cerebriamo la Santa Messa per la famiglia Botti Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen La grazia del Signore nostro Gesù Cristo L'amore di Dio Padre La comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi E con tutti voi Fratelli e sorelle Per partecipare dignamente a questa Santa Messa In questa festa di San Giuseppe Lavoratore Chiediamo al Signore perdono Chiediamo il perdono per tutte le nostre mancanze Per tutti i nostri peccati Se abbiamo fatto il nostro lavoro con amore e dedizione per la gloria di Dio Il Salmo di Coscienza Confesso A Dio Onnipotente e voi fratelli e sorelle Dio Onnipotente Dio Onnipotente Ci conduca alla vita eterna Chiediamo al Signore Chiediamo al Signore Cydale Gloria a Dio nell'alto dei cieli e in pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti rodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Onnigento, Gesù Cristo. Signore Dio, Agnudo di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietanili. I peccati del mondo, abbi pietanili. E per tanti noi, perché Gesù Cristo, con lo Spirito, e per tanti noi, perché Gesù Cristo, con lo Spirito, benediciamo, in pace intera agli uomini amati dal Signore. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della tua creazione, fa che per esempio l'intercessione di San Giuseppe siamo fedeli ai compiti che ci affidi e riceviamo la ricompensa che ci prometti per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli, nei secoli. Amen. Dal Libro della Genesi Dio disse Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagini di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Parola di Dio Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici Ritornate, figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. Di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi, del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, Maria insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle non stanno tutte fra noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua e lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi». Parola del Signore «Vode a te, oh Cristo» Il Papa Pio XII, servo di Dio, nel 1955, ha voluto istituire questa festa, questa memoria di San Giuseppe, lavoratore. Permette in risalto alla dignità del lavoro e come San Giuseppe è il modello, per tutti noi, il modello di lavoratore. Come bisogna lavorare per la massima gloria dei, per la massima gloria di Dio. La lettura di oggi è molto bella, è così anche la prima lettura. Sono testi fondamentali che ci hanno comprende. La prima lettura, che cos'è il lavoro? Anche Dio ha lavorato, ha creato il mondo, il cielo, la terra, l'universo in sette giorni. Il settimo giorno Dio si riposa. Perché? Per farci comprendere che l'uomo deve lavorare, perché l'uomo col lavoro collabora con l'opera della creazione, l'uomo lavorando modifica la materia, dà gloria a Dio, perché Dio stesso vuole che deve lavorare, ma al settimo giorno si riposa. Perché si riposa? Non tanto alla stanchezza fisica-mentale, perché l'uomo ha bisogno di pensare, di riflettere, di valorizzare il lavoro. Non si lavora per il lavoro. Come fanno alcuni. Si pensa soltanto a lavorare e si salta la messa, la domenica, terzo comandamento. Ricordi santificare le feste. Il Signore si riposa per dirti che hai bisogno, almeno una volta alla settimana, di tornare in te stesso, di riflettere. Ecco, il settimo giorno, che è la domenica, il giorno del Signore, vuol dire nel latino riflettere perché stai vivendo, quale è il senso della tua vita. Lavori, lavori, domani sbatti per terra e muori all'istante. Come diceva Padre Pio, la vita è una prova. In questa prova ti stai giocando l'eternità. Diceva Padre Pio. Quindi è necessario fermarsi per riflettere. Quindi non bisogna lavorare la domenica. Non è un giorno che è di riposo, ma un giorno a dedicarlo al Signore, alla preghiera, alla messa, alla meditazione, affinché tu possa dare senso alla tua vita. Lavori, come fanno alcuni, per accumulare, perché sono vanitosi, per guadagnare il più possibile, puoi spendere per cose sciocche, per vanità. Lavoro maledetto da Dio, non è benedetto. E lo dice il curato d'Ars, San Giovanni Maria Vennei, oppure la Madonna, il 19 settembre 1846, a parvi alla Salette in Francia, al contemporaneo di San Giovanni Maria Vennei, che sono le radiotici di Grenoble. Che cosa disse? San Giovanni Maria Vennei, sì, puoi lavorare, c'è su me anche la domenica, per casa eccezionale, ma deve essere un'eccezione. E la Madonna della Salette si lamentò, quando apparve a Milania Massini, dicendo, Dio sta per castigare la Francia, sta castigando la Francia, riconosciuta dalla Chiesa, la Salette, da Beato Pionono, per due peccati, la bestemmia e perché si lavora di domenica. Non è benedetto da Dio, quando si lavora per necessità. Per questo è in vola, perché il giorno dedicato al Signore, il sesto giorno, il settimo giorno, Dio si riposa, per fargli quanto è importante, dedicarsi a Lui. E quindi San Giuseppe è un grande modello, così, e lavorare perché? Perché l'uomo deve collaborare con Dio nella creazione. E Gesù torna a Nazareth, va nella sinagoga, come abitualmente, che Gesù era un rabbi, maestro, lo insegnava nella sinagoga, i rabbi, prendeva la sacra scrittura, veniva letta ad alta voce, e poi c'era il commento, come le nostre messe, si predicava. E Gesù lo conosceva già nella sinagoga, e rimangono meravigliati, perché Gesù comincia a fare i miracoli. Arrivata all'età di trent'anni, dopo trent'anni di silenzio, di nascondimento, di preparazione, quando Dio il Padre ha dato l'ok, Gesù inizia la sua opera di evangelizzazione, e nessuno li crede. Ma questo è il figlio di Faligname, di Faligname, di Giuseppe, come è possibile? Da dove vengono questi doni, questi carismi? Il nascondimento di Gesù, l'umiltà di Gesù. Per trent'anni, essendo figlio di Dio, ha vissuto il nascondimento, quando è importante l'umiltà e il nascondimento. E quindi la gente non crede, ma questo è il figlio, non è fuori il figlio di Giuseppe Faligname, che sicuramente è già morto San Giuseppe, e di Maria, i suoi cugini, i suoi fratelli. In ebraico non esiste una parola cugini e fratelli, è un'unica parola. Quindi molti eretici dicevano così, ma la Madonna non è sanda, non è vergine, perché ha avuto altri fratelli, altri figli, stolte, ciucci, che non avete conoscito dalla saga scrittura, tanto meno l'ebraico. Si usano l'unica parola per l'ebrea, per indicare fratelli e cugini. Erano i cugini di Gesù, non i fratelli carnali, per indicare. E quindi molte volte, già San Girolamo, nel quarto secolo, ha detto di confutare questi eretici, che negavano la verginità di Maria, perché dicevano, la Madonna ha avuto altri figli, e quindi, non è vergine, stolti. E quindi, e viene così difesa, ecco la verginità di Maria, San Girolamo ne parla che Gesù uscì dal grembo di Maria, come entrò nel Cenaco, la porti chiusa, e così uscì dal grembo di Maria, senza corromperla minimamente. Da dove quindi rivengono tutte queste cose? Gesù dà un'espressione, dice una cosa importantissima. Nessun profeta è aggetto, né da sua parte, né sui familiari. Perché? Perché molte volte si guarda soprattutto alle apparenze, a quello che noi conosciamo, perché il nemico principale dell'anima è l'ignoranza. L'ignoranza è la radice di tutti i peccati, ecco perché il Padre Pio raccomandava lo studio e la preghiera, che vanno insieme, che è fondamentale, perché molte volte non si conosce Gesù, non si conosce la volontà di Dio, si commettono tanti peccati, e quindi è importante, ecco, soprattutto la nostra vita spirituale, San Giuseppe è un grande modello, perché un uomo tutto donato a Dio, pieno di amore, che l'amore vuol dire proprio donazione, totalmente sottomessa alla volontà di Dio, ha sopportato delle grandissime prove, soprattutto quando ha trovato la Vergine Santa, incinta, ma come è possibile? Quello ha fatto il voto di verginità, come è possibile che la Madonna era incinta? È andato in crisi, perché l'uomo giusto, santo, aveva con l'obbligo di accusarla pubblicamente, non lo fa, e l'Arcangelo interviene, non temere di prendere con te Maria, ma un uomo santo, giusto, grande, ed è potente, viene invocato come il patrono dei lavoratori, della provvidenza, invocato a lui per l'aiuto materiale, economico, e soprattutto, e viene definito anche dal Papa, di un e tredicesimo, il terrore dei demoni, fa scappare, per la sua purezza, il giglio di San Giuseppe, il suo candore, perché è totalmente donato a Dio, la sua vita, totalmente donata alla Madonna, e a Gesù. E poi quando è arrivato il momento, come dice San Bernardo, San Bernardino da Siena, il Signore sarà portato in cielo, in anima e corpo, proprio del transito di San Giuseppe, perché non si è mai ritrovato il corpo di San Giuseppe, dice San Bernardino, e tanti altri santi, mistici, perché è totalmente unita a Dio. E chiediamo a questo grande, potente Patriarca San Giuseppe, anche noi, di lavorare con dedizione, fare bene il nostro lavoro, con onestà, con puntualità, e mettere Dio al primo posto, rispettare la domenica, che è il giorno consacrata a Dio. E chiediamo a lui, al Patriarca San Giuseppe, anche l'aiuto economico, l'aiuto non di difficoltà, perché lui ci aiuta, ma dobbiamo imitare le sue virtù, amare San Giuseppe, pregare San Giuseppe, soprattutto, direbbe San Luigi Griglioni di Monfort, perché inizia questo, oggi, anche il mese di maggio, un mese dedicato a Maria, totalmente unita a San Giuseppe, anzi, dice il Papa, assolutamente uniti, e che la Vergine Santa ci deve accompagnare in questo emozio, per imitare le sue virtù, perché questo significa il mese di maggio. Il vero devoto di Maria, dice San Luigi di Griglioni, non consiste nel fare le processioni, la mese, ma consiste nel imitare le virtù di Maria, soprattutto l'umiltà, il candore, la purezza, l'amore, la dedizione, la donazione di amore, perché amore, vuol dire soprattutto donarsi agli altri, e quello che è stata anche la vita di San Giuseppe, tutta la sua vita dedicata per Gesù, per la Madonna, tutta spesa per loro, così per noi è un grande esempio di umiltà e di dedizione. Siano rodati, Gesù e Maria. Grazie. 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 Benedetto, sei tu, Signore, Dio dell'universo, nella tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, il frutto della terra e delle ovvore dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. e delle ovvore dell'uomo. Grazie. 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 Bene, tu sei tu, Signore, Dio dell'universo. Nella tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi me vanta di salvezza. Bene, grazie a te, grazie a te, grazie a te, cinza olyo, a te. pregati fratelli e sorelle che nel vostro sacrificio sei da vita a Dio Padre e a Dio Padre il Signore che ci c'è la parola di questo sacrificio alla gloria del suo nome e che è il nostro e il tuo sangue Cristo o Dio fonte della misericordia guarda i doni che ti presentiamo nella memoria di San Giuseppe e fa che la nostra umile offerta diventi pegno della tua protezione per Cristo nostro Signore Amen Il Signore sia con doni e con il tuo spirito e anche i nostri cuori sovrappi al Signore e diamo grazie al Signore nostro Dio e cosa buona e giusta e veramente cosa buona e giusta il nostro dovere fonte di salvezza prende le grazie sembilo nel luogo a Te Signore Padre Santo Dio onnipotente ed eterno noi ti odiamo ti bendiciamo ti glorifichiamo nella memoria di San Giuseppe e l'uomo giusto fu prescelto come sposo di Maria Vergine e Madre di Dio servo sangio e fedele fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio concepito per opera del loro spirito santo Gesù Cristo Signore nostro e in mezzo di Lui gli angeli lotano la tua gloria le dominazioni ti adorano le potenze ti venerano con tremore a Te neggio nei cieli dei cieli e i serafili uniti in eterna esultanza al loro canto concedo il Signore che si unisca nelle umili voci nell'inno di lode santo, santo, santo e Signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni della tua gloria osana, osana, osana osana, nell'alto dei cieli me l'eretto cuore che viene nel nome del Signore osana, osana, osana osana, nell'alto dei cieli veramente santo sei tu, oh Padre ed è giusto che ogni creatura ti rodi per mezzo del tuo Figlio il Signore nostro Gesù Cristo nella potenza dello Spirito Santo fa vivere il santifico universo che continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome il sacrificio perfetto ti preghiamo umilmente santifico e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio il Signore nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane terese grazie con la preghiera di benedizione lo spessò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto e sacrificio per voi gli sono per voi che c'è il per voi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo dite ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti. Fate questo in memoria di me. Grazie a tutti. Grazie. 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 Mistero della fede. Grazie a tutti. 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 O Signore che ci è nutriti con il pane nel cielo Fa che sull'esempio di San Giuseppe conserviamo nei nostri cuori la memoria del comore Per godere il frutto della pace senza fine Per Cristo nostro Signore Amen Estendo questa benedizione su tutti voi che ci state seguendo in diretta e tv Anche in differita sul nostro canale YouTube Benedico le vostre case, le vostre famiglie In modo particolare tutte le persone anziane e tutti coloro che soffrono Il Signore sia con voi e con il tuo spirito Dio nostro Padre che ci ha nutriti Che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giuseppe Vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace Amè Cristo Signore che ha manifestato il San Giuseppe la forza rinnovatrice della Pasqua Vi rende autentici testimoni del suo Vangelo Amè Lo Spirito Santo che San Giuseppe ci ha offerto un segno di solidà fraterna Mi renda capace di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa Amè E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio E Spirito Santo discenda su di voi E con voi rimanga sempre Amè La messa è finita Andato in pace Rendiamo grazie Per le necessità della Santa Chiesa Mi ringrazio a me per il dono della comunione Ave Maria piena di grazie Signore con te Tu sei benedetta a fare donne Benedetto il frutto del tuo sede Ave Maria piena di grazie Ave Maria piena di grazie Signore con te Tu sei benedetta a fare donne Benedetto il frutto del tuo sede Ave Maria piena di grazie Signore con te Tu sei benedetta a fare donne Benedetto il frutto del tuo sede Signore con te Signore con te Immacolata Madre della Chiesa San Michele Arcangelo Difendici nella battaglia Contro la perfidia E risiede il diavolo Tu sei il nostro sostegno Che Dio Che Dio esercire il suo diritto intero Noi sopprechevoli lo preghiamo E tu Prince della Milizia Celeste Ricaccia nell'inferno Satana E gli altri spiriti immarini I quali erano in modo Accredizione delle anime O Arcangelo e San Michele San Michele Difendici nel combattimento affinché non peribili né te libere il giorno del giudizio. Amo. San Michele Arcangelo prega per noi. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sanque di Cristo, inebrami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, comportami. O buon Gesù, risadiscimi. Dentro di te pianghi, nascondimi. Non permette di che io mi separi da te. L'animico marino, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. E comando che io venga a te. Finché ti rodi con i tuoi santi, nei secoli e dei secoli. Amo. Immacolata Madonna dei boschi, prega per noi. Amo. 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 Amarà. Amo. E gloriosi meriti, coi Santi celebriam, il Dio, Padre e Spirito, nel Figlio ringraziam. O scusso della Vergine, Padre del Salvatore, sul nostro Spirito vigila e sembra lo fede. Grazie a tutti.